Buonasera a tutti e bentrovati al nostro solito appuntamento. Sono passate tre settimane da quando il nostro ospedale è stato riconvertito. In queste tre settimane abbiamo fatto tanti sforzi, tanti sacrifici e ci siamo sforzati soprattutto di osservare quelle che sono le prescrizioni, cioè quella più importante è quella di rimanere a casa. E questo ha dato i suoi frutti, sta dando i suoi frutti. Tant'è che nel nostro territorio i casi di covid sono veramente pochissimi. Questa sera vi darò i dati. Noi abbiamo tre casi positivi e sei persone in isolamento fiduciario. Che cosa significa questo? Significa che possiamo stare allora rilassati? No, assolutamente. Significa che dobbiamo ancora continuare a comportarci così come ci è stato prescritto. E questo dato che io questa sera ho voluto comunicarvi deve essere un'informazione che viene data non tanto perché deve essere indirizzata a capire chi è in maniera tale da eventualmente prendere le precauzioni. No, è un dato che ci deve invece servire per lanciare un messaggio, per essere ancora più uniti, essere ancora più vicini a tutti quelli che stanno attraversando un momento difficile. ecco che una comunità matura, intelligente, lì dove vede che ci sono situazioni difficili, si stringe attorno a sé e fa sentire attorno ai suoi componenti tutto l'aiuto, tutta la solidarietà, tutta l'amore che prova per i suoi figli e per i suoi membri. Quindi allora la raccomandazione che faccio è quella di stare comunque in casa, di continuare a tenere un comportamento, il comportamento che abbiamo tenuto fino adesso, che è quello di essere il più possibile ligi alle regole, di rispettare le prescrizioni che ci sono state impartite, di attendere solo a quelle cose di cui non possiamo fare a meno. E quindi ecco se noi osserveremo, se noi continueremo a fare questo, riusciremo a superare anche questo momento difficile. Ieri abbiamo avuto tutti notizia del provvedimento che il governo ha emanato in favore delle fasce di popolazione più debole. Bene, noi pensiamo che questo sia un provvedimento che va nella direzione giusta e quindi già da domani immediatamente faremo in modo che le persone che sono più in difficoltà, quelle che sono più a rischio in questa fase difficile in cui le imprese hanno dovuto chiudere, i negozi alcuni sono stati costretti a chiudere e quindi quelle persone che magari lavoravano alle dipendenze di esercizi commerciali piuttosto che di locali pubblici o di ditte o imprese si sono ritrovate a casa. Bene, loro devono sapere che questa amministrazione farà di tutto per venire incontro a tutte le loro necessità. e quindi io dico alla mia comunità rimaniamo uniti, stiamo vicini l'un l'altro e certamente sapremo superare questo momento e ne usceremo più forti che mai. Io vi ringrazio e vi do poi appuntamento a domani.